e buongiorno weekend benvenuti ad una nuova puntata di buongiorno weekend l'appuntamento del fine settimana del Cusano Media Group il sabato e la domenica dalle 9 alle 11 due ore in nostra compagnia per parlare di tanti temi dare qualche spunto sugli eventi culturali del nostro paese capire che cosa mangiare soprattutto la domenica parlare di temi molto più seri il sabato e affrontare quello che è la nostra quotidianità la nostra casa le nostre quattro mure come poterle vivere con consapevolezza tutto questo ovviamente il sabato e la domenica dalle 9 alle 11 con me Martina Gatto ma soprattutto con voi perché ormai lo sapete è l'undicesima puntata sapete che a me piace parlare con voi e ricevere i vostri messaggi dove al 342 627 5717 è facile ormai lo sapete a memoria avete già anche memorizzato il vostro numero sul vostro numero di telefono quindi mandate il messaggino anche soltanto per dire ciao e soprattutto diteci da dove seguite buongiorno weekend ormai è una grande famiglia si scrivono dal nord al sud quindi fateci sapere che cosa state facendo mentre guardate buongiorno weekend qualcuno stira qualcuno fa soltanto colazione poi si prepara per uscire qualcun altro già prepara il pranzo del sabato della domenica fate voi l'importante che ci scrivete al 342 627 5717 allora io oggi sono vestito un po un po streghetta perché capiremo un po meglio in effetti si sta per avvicinare la festa di Halloween e proprio questo sarà uno dei temi di questa puntata ma adesso bando alle ciance perché vediamo chi sono i protagonisti di questa puntata ovvero gli ospiti di buongiorno weekend di questo giorno inizieremo con la dottoressa Valentina Fazio un'amica ormai del Cusano Media Group e con lei parleremo di quello che sarà un altro giorno molto importante che si sta per avvicinare la commemorazione dei defunti quindi parleremo con lei di elaborazione del lutto capiremo come nella nostra vita sia importante elaborare il lutto e non vuol dire soltanto affrontare la perdita di una persona cara ma ha diverse sfaccettature lo capiremo meglio con lei una grande professionista poi passeremo appunto alla festa di Halloween eh sì perché arriverà un altro grande ospite il direttore artistico della più grande festa di Halloween nel nostro paese Stefano Nannizzi che è il direttore artistico di Halloween Celebration è la prima festa in tutta Italia a ben 29 anni e comprende diverse diversi capoluoghi di regione quindi è molto 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 importante e molto grande dopodiché è sabato è dove quindi alle 10 che cosa facciamo prendiamo il caffè giusto un caffè con una grandissima attrice Tiziana Foschi sono felicissima di averla qui ospite faremo colazione insieme e soprattutto vi dico già c'è anche una chicca perché c'è una foto che risale al 2007 con Martina piccola del 2007 Tiziana Foschi è incredibile bellissimo e poi chiudiamo con Raffaella Ceres lei che è una pedagogista e eh affronteremo con lei eh quelli che sono i giochi da fare con i nostri bambini proprio nel periodo di Halloween storie racconti albi da colorare oppure giochi faremo qualcosa insieme è tutto molto interattivo tutto questo a buongiorno weekend quindi scrivete 3426275717 mi raccomando adesso siamo pronti per iniziare quindi do il benvenuto alla dottoressa Valentina Fazio buongiorno dottoressa buongiorno ciao come stai prego benvenuta in questo salotto salotto bianco colorato insomma in tinta vero sei in tinta perfetta vedi c'è anche questa musica che un po' ci fa svegliare perché sono pur sempre le 9 e 7 del mattino ed è anche sabato però noi siamo prontissimi a per affrontare dei temi eh molto molto importanti perché a buongiorno weekend ovviamente vogliamo dare degli spunti di riflessione su eh sulla vita su quella che è la vita eh quotidiana e quindi le nostre quattro mura ma anche sul benessere psico fisico abbiamo affrontato questi temi nel corso delle puntate eh con dei grandi professionisti con te oggi eh in vista di quello che sarà il 2 novembre la commemorazione dei dei punti mi è venuta in mente di di dover parlare cioè credo sia proprio una necessità parlare di un tema che sì probabilmente sabato mattina non è che tutti eh vogliano affrontare questo tema in realtà è importante parlarne proprio per cercare di viverlo con più leggerezza comunque con più consapevolezza eh stiamo parlando di elaborazione del lutto se pensiamo di conoscere tutti che cosa sia il lutto in realtà forse non è così quindi chiedo proprio a a te eh che cos'è il lutto? Allora il termine lutto eh deriva dall'uctus che possiamo ricollegare all'infinito lugere sempre dal latino e vuol dire piangere dobbiamo dare una definizione ancora più precisa possiamo definirlo come un processo fisiologico di adattamento alla separazione dalla figura che non è più presente nella nostra quotidianità non è più con noi ed è un processo che ha un tempo ben definito eh nel momento in cui noi amiamo qualcuno e il tempo insieme finisce è inevitabile provare dolore è proprio un'esperienza che fa parte della vita e nel viaggio che essa rappresenta quindi eh prima o poi ciascuno di noi ci confronteremo con questa esperienza che è proprio naturale anche se dolorosa e nel lutto ehm diciamo che il lutto segna uno spartiacque tra un prima e un dopo tra una dimensione interna emotiva affettiva psicologica ma anche esterna sociale lavorativa di progettualità in cui ovviamente non saremo mai più quelli di prima e il lutto è sia eh questo processo fisiologico di adattamento alla separazione ma anche un processo psicologico di elaborazione di questa perdita sia esterna ma anche interna nel nostro cuore e l'elaborazione del lutto eh diciamo si ehm si sofferma maggiormente sul dopo come avverrà questo dopo che nuovi significati io possa avere per avere e continuare a avere una vita meritevole di senso e di significato certo perché c'è tutta una organizzazione dopo l'evento eh proprio di vita no del contesto familiare eh che va affrontato ehm mi viene in mente eh per la parola perdita in realtà di stacco perdita che probabilmente non è eh cioè è da identificare soltanto con la morte di una persona cara questa fase questo lutto oppure si può eh trasportare anche in altri ambiti della vita? No si può trasportare mai in altri ambiti perché tutti noi eh ogni giorno ci confrontiamo con degli eventi di perdita che sia la perdita ad esempio del lavoro ehm dove ne deriva anche la centralità della nostra identità la nostra identità si poggia anche su quello che noi facciamo noi siamo anche perché facciamo quindi nel momento in cui io ricevo purtroppo una notizia di licenziamento eh i meccanismi fisiologici e psicologici sono gli stessi poi proprio del lutto cioè c'è una perdita la stessa cosa ad esempio mi viene in mente la fine di una relazione in cui l'esperienza del dolore e la sofferenza è terribile e lunga posso dire la stessa cosa quando noi purtroppo una persona vicino a noi riceve una diagnosi di una malattia in fausta anche lì ci sono delle fasi che sono identiche a quelle che proviamo nel momento in cui c'è la perdita di una persona cara ma la stessa cosa vale quando prendiamo un animaletto eh quello che per noi è stato diciamo l'altra parte di noi che ci ha tenuto compagnia per tantissimi per tantissimi anni quindi l'esperienza di perdita è trasversale a tantissimi nostri contesti è chiaro che eh più è importante più significativa per noi quella funzione eh quel sogno quella persona più il dolore è intenso e forte certo eh ci sono delle fasi ehm dell'elaborazione è un percorso lineare che si affronta sì allora dal momento che il dolore è una esperienza umana ed è inevitabile sempre stato trattato nell'arco degli anni eh da Freud a Bolby c'è però un modello che più degli altri è stato utilizzato in vari campi è quello delle cinque fasi ehm di una psichiatra che si chiama Kublen Ross eh le fasi sono cinque e sono la fase del rifiuto la fase della rabbia la fase della negoziazione la fase della depressione e la fase dell'accettazione in realtà c'è anche un altro modello che ne aggiunge altri due la fase dello shock e la fase della speranza in realtà ehm questo modello nasce questo è il modello della Kublen Ross per affrontare la diagnosi di una malattia terminale ma in realtà poi funziona ugualmente nel lotto quindi nella perdita di una persona cara la prima fase che è la fase del rifiuto è quando eh è appena accaduto l'evento e la persona non non lo accetta lo nega non è ancora come se non fosse proprio avvenuto è una fase di blocco eh sia psicologica emotiva ma anche come di azione di progettualità questo perché perché intervengono dei meccanismi prima fra tutti il meccanismo della negazione cioè l'evento è appena accaduto è talmente doloroso e forte che il nostro corpo la nostra mente ci protegge proprio dal toccarlo e dal visualizzarlo per cui eh le espressioni sono non è possibile l'ho visto l'altro ieri no dieci giorni fa si tenevano per mano facevano spesa è impossibile la fase successiva è quella della rabbia in cui al contrario ci sono e come le emozioni sono fortissime e soprattutto eh tristezza dolore ma anche tanta rabbia e in quel caso ehm l'esperienza inizia ad esistere ehm però ci sono dei meccanismi tali per cui la persona si chiede perché a me come come non ho potuto capire come non l'ho impedito eh come non ho visto quei segnali del mio partner no come è successo allora questa è una fase molto delicata perché in questa fase o la persona si rende conto e chiede aiuto ehm perché l'elaborazione è un processo di superamento di tutte queste fasi se la persona si incastra lì è chiaro che inizia una chiusura e si perde proprio la speranza nell'andare avanti in questa fase la terza fase è la fase della negoziazione in cui inizia a esserci un'idea eh di speranza in cui la persona inizia ad aggrapparsi all'idea posso conoscere un altro medico eh troverò un altro ospedale ci sarà sicuramente una cura che io ancora non conosco ma ci sarà anche lì non c'è ancora consapevolezza oppure c'è l'idea tipo pensiero magico no lui l'ha detto tante volte che andava via però magari questa volta rimane e non l'ha detto veramente quindi ci si lega a questo barlume di speranza le ultime due fasi sono quelle un po più decisive e dolorose quella la fase nella della depressione in cui solitamente la persona inizia a essere consapevole che arriverà l'esperienza inottabile della morte o si è realizzata la fine della relazione o il mio amichetto compagno di vita purtroppo non c'è più allora in questa fase inizia a esserci appunto consapevolezza è una fase molto dolorosa ovviamente che può anche diciamo si può anche inserire ad esempio una depressione reattiva in quel caso l'ultima fase è quella dell'accettazione allora nella fase dell'accettazione c'è la consapevolezza dell'evento che è accaduto è accaduto veramente le emozioni sono differenti ma avviene questo passaggio dalla manifestazione esterna del lutto quindi c'è già stato il funerale io ho già tolto tutte le cose del mio ex compagno il mio animaletto non è più con me non lo sento più al passaggio interno nella mia mente soprattutto nel mio cuore della persona che ancora mi scalda il cuore quindi posso avvertirne la presenza in un'immagine in un suono io inizio ad elaborare la mancanza fisica e a sostituirla con una presenza interna questa è l'ultima fase questa è l'ultima è la fondamentale poi fase che ci fa dire effettivamente in effetti abbiamo elaborato questa enorme mancanza è per tutti così c'è realmente riusciamo a riscontrare queste fasi oppure c'è qualcuno che in realtà vive il lutto in modo proprio allora martina in realtà diciamo che vorrei precisare questo che il lutto non è una condizione psicopatologica che necessita in tutte le condizioni di attenzione di vario tipo il lutto è un'esperienza fisiologica noi siamo progettati e programmati per resistere e rialzarci dopo varie varie perché purtroppo non è solo una noi siamo sollecitate influenzati da tantissimi accadimenti più che mai in questo periodo quindi noi siamo progettati per rialzarci e pur vero con un altro significato di vita di cui dobbiamo elaborare proprio anche la fine della fantasia e dell'aspettativa che avevamo nel prima di quello che è accaduto allora queste fasi sono naturali appunto perché sono fisiologiche per tutti è ovvio che in alcune condizioni non accade il superamento e il passaggio dalla prima all'ultima fase in quel caso si parla di lutto complicato patologico perché perché appunto il non passaggio la fase successiva fa sì che io possa iniziare a chiudermi a isolarmi a non vivermi l'emozione del dolore della sofferenza che comunque fa parte ovviamente più il dolore nel lutto complicato ovviamente la persona non funziona adeguatamente sia perché magari il tempo è tantissimo nel senso c'è anche un tempo del lutto che è 9 18 mesi nel momento in cui sono cinque anni io è capitato giusto una settimana fa nel centro di cui pratico insomma la mia attività al centro psicologia sole un signore che ancora dopo cinque anni apparecchia a pranzo per la moglie che purtroppo non c'è più quindi in quel caso il tempo è un sentore che mi fa capire come non è avvenuto il passaggio naturale anche se doloroso quindi nonostante ci siano tutte queste fasi che sono quelle ideali insomma per questa elaborazione purtroppo in alcune persone non avviene in quel caso rappresenta un fattore di rischio per altre difficoltà. Però proprio per questo esempio che mi ha stretto il cuore perché è molto tenero e romantico però appunto deve far scattare un campanello d'allarme nei familiari cioè non è visibile solo come una coccola come un estrema un'estrema unione ricerca di unione. No Martina guarda guarda in realtà è già un campanello d'allarme perché perché non è stato processato non è stato processato non è stata processata la perdita la mia routine non si è modificata io non ho un nuovo senso di vita diverso dove anche il creare un nuovo senso del mio sei che si è anche investire anche nel ricordo del compagno che non ho più lì non si è modificato questa persona parlava ancora con con la moglie quindi in quel caso è proprio la quantità è quello che ci mette nel tempo ad essere un camp quanto meno un fattore di diciamo fattore di allarme per una depressione per un'altra difficoltà per un per un disturbo ancora in corso di tipo traumatico e solitamente anche qui sono i familiari che notano perché perché ovviamente la persona non è lucida la persona sta in uno stato di tempo in quel tempo è un eterno presente non c'è il futuro e io mi rendo conto mi devo adattare oppure un campanello d'allarme e la persona che nella sua ideazione di pensiero dice niente ha più senso per me oppure nella fine di una relazione la persona che si percepisce ancora in coppia no ma noi siamo ma no ma noi tanto quest'estate partiamo il visionare continuamente lo stato del partner che magari ha già un'altra relazione questi sono tutti i campanelli d'allarme che l'elaborazione non è avvenuta o si è inceppata dottoressa qui a buongiorno weekend diamo la possibilità di iscriverci anche al 3426275717 quindi di proporre delle domande quindi chiederei la regia di mandare la rubrica il doc risponde così sono arrivate delle domande come non rispondiamo allora intanto vi ringrazio sempre per i messaggi e anche in questi temi abbastanza impegnative mi rendo conto ci scrive mio marito ha perso il fratello da circa un mese ho paura non riesca ad elaborare il lutto perché non ha mai pianto per tutto questo è distrutto dal dolore lo vedo anche se tende a nascondere e evitare di parlarne ma non piange posso aiutarlo in qualche modo è normale che faccia così maria da pompey grazie sì grazie per la domanda allora e diciamo che non c'è una normalità di vivere un'emozione così totalizzante molto forte come quella della perdita di una persona e quindi il dolore e la sofferenza in realtà il pianto è sempre stato un po' demonizzato allora è anche una caratteristica temperamentale piangere subito piangere immediatamente o non riuscire a piangere in realtà ognuno vive l'esperienza di perdita a modo proprio quindi io direi di non utilizzare solo quello come campanello e soprattutto di non forzarlo è chiaro che è nel tempo e nelle cose che io metto nel tempo che avviene l'elaborazione del lutto un mese è ancora veramente pochissimo siamo ancora nella prima barra seconda fase ancora più nella prima quindi non c'è ancora la realizzazione di questo quello che è possibile fare è di garantire la propria presenza chiedere alla persona cosa vuoi che io faccia per te in questo momento perché alcuni possono voler avere un po' di bisogno di rimanere da soli per manifestare anche nel proprio angoletto che sia anche in bagno una prima esperienza di dolore però magari vissuta in solitaria altri invece hanno bisogno di avere qualcuno da abbracciare da sapere che c'è quindi io chiederei a questa signora di dire proprio al proprio compagno il marito cosa vuoi che faccio per te in questo momento se non lo sai va bene va bene uguale io sono qui perché non c'è un'idea di cosa mi può servire per stare meglio non c'è uno stare meglio c'è uno stare così è vero perché alcune volte ci si sente inermi anche no di fronte al dolore altrui che ognuno vive poi personalmente però però tante volte quello che accade che si piange molto tempo dopo quando tutti i meccanismi di devo stare devo stare fermo devo continuare a fare le mie cose quando c'è accade che la persona elabora il lutto allora avviene il pianto anche un anno dopo due anni dopo comunque in ogni caso il pianto fa bene il pianto fa bene liberatorio nel vero senso della parola sì sì ma è anche un grande regolatore dell'umore perché proprio facilitano tutta una serie di meccanismi quindi sì però se questo non avviene non 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 ci preoccupiamo non ci focalizziamo soprattutto non forziamo la persona rispetto proprio al supporto da dare c'è un altro messaggio non si firma la mia migliore amica ha perso il padre in maniera improvvisa io non so come aiutarla è un dolore immenso posso soltanto immaginarlo vorrei starle vicino ma sembra rifiutare ogni forma d'aiuto anche qui siamo nella prima fase sicuramente è chiaro martina che anche il modo in cui si perde una persona è importante perché se un modo è traumatico acuto non lo si sapeva la persona godeva di buonissima salute avviene in maniera tragica per esempio io penso ad un errore ad una tragica fatalità ovviamente noi non abbiamo gli strumenti iniziali per far fronte a darci una spiegazione e rinarrare per cui tante volte il familiare non ha idea perché la persona stessa non ha idea quello che consiglierei di chiedere ad esempio a questo signore di ritagliarsi un po di tempo per per decidere e eventualmente ad esempio tra un mesetto due mesetti di rivolgersi ad una persona che possa quantomeno capire in che fase nell'elaborazione del lutto sta è chiaro che deve essere sempre la persona essere motivato in quel caso è ancora molto difficile ripetiamolo perché vorrei insomma che fosse chiaro il lutto e perdere una persona è una situazione che noi siamo pronti comunque a superare anche se ripetiamo cambierà tutto da quel momento in poi però richiede molto tempo anche lì una presenza io garantire sicuramente una presenza dottoressa proprio per concludere c'è ulteriore consiglio che si sente di dare a delle persone che in questo momento si sentono di star male di affrontare tutto questo anche soprattutto in vista della giornata che affronteremo tutti inevitabilmente sì allora la una cosa che purtroppo come hai detto tu benissimo all'inizio le emozioni negative che poi in realtà non esistono emozioni negative emozioni positive si sono emozioni dolorose ed emozioni positive il dolore la vergogna il senso di colpa sono emozioni dolorose che se noi le abbiamo da un punto di vista fisiologico perché ci servono ci danno un senso alla vita perché capiamo quanto è importante la durata della vita la qualità della vita quelle che sono le cose per noi importanti quindi ci danno una direzione queste emozioni devono essere espresse possono essere espresse con un confronto quindi cerchiamo di aprirci anche con una sola persona oppure cerchiamo quello che dico sempre io di ritagliarci anche durante la giornata quei cinque minuti nel posto sicuro che io creo per me che può essere anche la mia macchina un pezzo della mia casa una posso prendere una foto e lasciarmi andare a ricordo all'immagine della mia nonna che mi voleva bene di cui sento il calore anche ad una voce quindi nel mio posto sicuro tirare fuori quello che quella persona era per me che mi può aiutare questo sì non vuol dire non aver superato però io lo localizzo in un momento in cui posso veramente ancora averlo con me questo sì e le emozioni vanno affrontate e espresse dottoressa grazie grazie mille perché il tema credo colpisca tutti inevitabilmente però lo tratta sempre con estrema delicatezza quindi davvero grazie alla dottoressa valentina pazio psicoterapeuta del centro di psicologia sole grazie grazie mille grazie anche voi andiamo in pubblicità continuate a scriverci al 3 4 2 6 2 7 5 7 1 7 adesso alleggeriamo ma non troppo perché parliamo di halloween grazie a tutti